Ti ricordo di premere il tasto iscriviti, attivare la campanella, lasciare un mi piace e guardare il video fino alla fine, grazie. I genitori di Filippo Turetta, il giovane che ha confessato l'omicidio di Giulia Cecchettin, hanno fatto visita al figlio presso il carcere Montorio di Verona. È il primo incontro dal giorno dell'atroce delitto. La visita, protrattasi per circa un'ora, ha visto il giovane abbracciare tra le lacrime il padre e la madre ed esprimere gratitudine per la loro presenza. Inizialmente Nicola Turetta ed Elisabetta Martini avevano rinunciato al colloquio, ma oggi hanno deciso di presentarsi, otto giorni dopo il ritorno di Filippo dalla Germania. Non ti abbiamo abbandonato. Il colloquio tra Filippo Turetta e i genitori era stato evitato mercoledì per non oberare psicologicamente il giovane in vista dell'interrogatorio di venerdì. Nove ore durante le quali il giovane aveva raccontato il terribile delitto nato dalla sua ossessione per Giulia e dalla vendetta per la sua voglia di libertà. È mio figlio. Comunque lo rivedrò, aveva ribadito al tempo il papà. La visita al carcere di Montorio è avvenuta poco dopo mezzogiorno. La direzione del carcere aveva adottato precauzioni per evitare riprese televisive e accanimento mediatico. L'incontro con Filippo Turetta si è svolto in solitaria nella sala colloqui del carcere, con l'adozione delle procedure standard, divieto di cellulari e perquisizione all'ingresso. L'emozione è esplosa quando giovane Turetta ha visto i genitori entrare, abbracciandoli tra le lacrime. Nonostante l'assenza di regole specifiche a riguardo, i genitori sono stati invitati, come di consueto nei primi incontri, a evitare di affrontare direttamente l'argomento principale, vale a dire l'omicidio di Giulia, e i motivi del gesto, un tema già trattato dal giovane davanti ai magistrati due giorni prima. La loro attenzione è stata quindi rivolta al trattamento ricevuto da Filippo e alle cure psicologiche a cui è sottoposto. L'interrogatorio di Filippo Turetta davanti al PM di Venezia, durato ben nove ore, è stato valutato come esaustivo dagli inquirenti. Alla luce di ciò-ciò, per il momento non sono stati pianificati ulteriori incontri. Martedì 5 dicembre si terranno i funerali di Giulia Cecchettin a Padova, in una cerimonia che avrà luogo nella Basilica di Santa Giustina, capace di accogliere migliaia di persone. Abbiamo scelto una chiesa grande affinché arrivi un messaggio di grande partecipazione, ha spiegato Gino Cecchettin, il papà di Giulia. Lo abbiamo voluto così perché arrivi questo messaggio.